Un omicidio consumato su marciapiede, 35 i testimoni ascoltati dalla questura di Chieti. È stato proprio grazie alla collaborazione di chi assistito alla scena che si è giunti al fermo che ha visto Emanuele Cipressi, 24 anni, essere arrestato con l'accusa di omicidio volontario. La vittima, trovata dai soccorritori in una pozza di sangue, è Fausto Di Marco, quarantenne musicista, che sabato notte si trovava a suonare nel circolo privato I Tre Assi di Chieti Scalo, zona università. A pochi metri, il luogo del delitto consumato con un corpo tagliente, che secondo gli investigatori potrebbe essere stato quello di una bottiglia di vetro rotta che ha reciso la carotide, rendendo impossibili soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nato un diverbio per un apprezzamento rivolto dalla vittima ad una ragazza. Di seguito poi l'aggressione per mano del 24enne, finita in tragedia. Sul posto sono intervenuti il PM Giancarlo Ciani, il questore Vincenzo Feltrinelli, e gli uomini della squadra mobile coordinati dal vice questore aggiunto, Francesco Costantini. La svolta nelle indagini arriva grazie ad una super testimone, la donna per la quale è scoppiato il diverbio fra i due. È stata lei a presentarsi dai carabinieri nel primo pomeriggio di domenica per raccontare tutti i fatti, facendo scattare le manette per Emanuele Cipressi. Una notte rumorosa e agitata, quella dell'omicidio, testimoniata dalle telefonate effettuate dai residenti alle forze dell'ordine, almeno quattro, iniziate poco dopo l'una. Una situazione frequente, raccontano gli abitanti della zona, impossibile dormire a causa degli schiamazzi che fino alle prime ore del mattino rendono difficile la vita dei residenti. Fuori dal circolo, posto ora sotto sequestro dagli inquirenti infatti, si creavano gruppi di persone che, non curanti dell'ora, proseguivano la serata con urle schiamazzi fuori dal locale. Stamattina un cumulo di bottiglie di vetro e bicchieri abbandonati. Sul logo del delitto, mazzi di fiori e biglietti dedicati a Fausto, la comunità dei musicisti si dice sconvolta per un fatto che ha coinvolto un ragazzo conosciuto da tutti come buono e innocuo, amante della musica e del teatro e molto attivo nelle iniziative artistiche della città.